Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego dove trovare questa cenere di guerra pioggia di frecce molto letale, ve lo garantisco molto letale e questa pioggia di frecce non garantisce affinità con un armamento ma conferisce la seguente abbrita, ecco come funziona allora, con l'arco eseguito da una posizione bassa come potete vedere e poi premara l'arco e non tanto così di frecce il nemico che abbiamo davanti quindi adesso vi porto a trovare questa cenere di guerra molto semplice perché prima di andare a trovarla dobbiamo prima fare una piccola missione, una missione molto molto semplice quindi non ci vorrà nulla dirigetevi alla terra di Kaelid, qui alla serie della città della stregoneria, dirigetevi da questa parte e recuperate questo quadro questo quadro esaminatelo, prendetelo, fate quello che volete, basta che toccate questo quadro e una volta preso dobbiamo andare in un altro posto quindi il posto dove prendere questa cenere di guerra quindi dirigetevi qui all'albero fate il giro girotondo intorno all'albero e poi scendete qua sotto, mi raccomando fate molta attenzione, se volete saltare facendo parkour fatelo ma tanto morirete di sicuro quindi prendete la capretta, fate i salti da veri professionisti qua questo è il salto della morte, adesso vi faccio vedere, eccolo qua scendete piano piano mi raccomando, se schiattate dovete rifare tutto a capo sono morto quattro volte qua sotto poi un'altra sorpresina che può farvi comodo c'è un gigante là, il guardiano di pietra se volete ammazzarlo, citetelo, io non ci riesco non lo so perché è un infame bastardo quindi se volete ammazzarlo fate pure ditemi anche cosa vi troppa scendete qua sotto proprio qui apparirà il tizio seduto sulla sedia e ci riescerà, così la cenere di guerra pioggia di strade, la pioggia di frecce quindi grazie a tutti per questa visione se il video vi è stato utilissimo vi consiglio di lasciare like iscrivervi al canale attivando anche la campanellina comunque le frecce di radar con questa cenere di guerra è... mamma mia, bellissima, veramente bellissima quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao